Con il quarto capo all'ordine del giorno, con relazione dei componenti dell'aggiunta dell'amministrazione Bello, allora il Presidente introduce l'argomento, lasciando poi al Sindaco la parola finché quest'ultimo presentasse al Consiglio gli assessori nominati, quali competenti, l'aggiunta comunale, giusto livello, il giusto livello sindacale dell'8-7-2019 che viene allegato all'8-7 atto per formare anche gli grandi e sospanziati, così come il portale dal testo punto, stereografico anche essi allegato. Chiamano la parola al simbolo. Allora, rispetto al capo all'ordine del giorno, intanto con due mie personali auguri al neopresidente Andrea Capano, che sarà sicuramente dalla dimostrazione di essere il Presidente di un uomo di equilibrio, saggio, persona stimata da tutti e probabilmente la persona giusta, al posto giusto, quindi auguri, auguri di voi Andrea Capano. Rispetto a questo capo, allora io agli atti quello che è il decreto e quello che sono le idee che gli assegnate agli assessori, oltre che chiaramente i nominativi degli assessori stessi, ritengo che chiaramente sarà in serie di discussione successiva quando saranno presentate le mie programmatiche, una meta alla presentazione delle mie programmatiche ci sarà anche chiaramente un'indicazione più specifica rispetto a quella che è la giunta, che allo stato attuale in questa seduta viene, come dire, formalmente presentata al Consiglio, dando atto della nomina con il decreto e con l'allegato, anche in termine del quadro, su cui vi allegato, vedete che che si è assegnato, quindi è una sorta di presa d'acqua, quindi nessun instrumenti in essere, mi limito, quindi soltanto esercizamente a rappresentare questo. Vi ringrazio e ancora vuoto a voi. Grazie. 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 Grazie.